Trevi XR85BT è un altoparlante amplificato portatile con particolari immorbida gomma ed eleganti finiture in tessuto. È un lettore di file MP3 da chiavetta USB e microSD card e si connette in Bluetooth con smartphone e tablet per ascoltare musica senza fini. Oltre alle funzioni di riproduzione, XR85BT è anche viva voce per conversazioni telefoniche. Radio FM, ingresso auxin e batteria ricaricabile al litio completano la dotazione dell'altoparlante portatile di Trevi.